Ieri sera, diciamo che fortunatamente sono state molto meno le sanzioni rispetto a sabato scorso, solamente 5 sono state le persone sanzionate e solamente una venerdì sera a fronte di 69 sanzioni che avevamo elevato la settimana scorsa. Quindi devo dire che sicuramente i trevigiani hanno risposto molto bene e quindi la situazione è ritornata sotto controllo. Una sera a Treviso tra cena e aperitivo ma sempre rispettando le regole. La prima, quella di indossare la mascherina in maniera corretta, obbligatoriamente anche se all'aperto dalle 18 della sera. Questa volta è andata meglio dello scorso weekend dove gli agenti della polizia locale avevano sorpreso e sanzionato almeno 69 trevigiani. Tra venerdì e sabato sera le sanzioni invece sono state soltanto 6. Le persone sanzionate andavano dai 18 ai 30 anni, quindi una fascia di età molto giovane. I controlli, ripeto, verranno fatti anche nelle prossime settimane perché ovviamente l'ordinanza è in vigore. Però, ripeto, al bilancio che abbiamo fatto la settimana scorsa con 69 sanzioni, il fatto di averne fatte 6 nell'ultimo fine settimana, cioè tra venerdì e sabato, ci dimostra che Treviso ancora una volta ha capito l'importanza di rispettare le norme. Multe da 400 euro o 280 se pagate immediatamente. Attenzione, non basta indossare la mascherina, bisogna indossarla correttamente. Una sanzione è stata staccata venerdì sera in zona Piazza Indipendenza, mentre sabato sera quattro giovani sono stati sanzionati in zona Pescheria e uno alla loggia dei Cavalieri. I controlli proseguiranno quotidianamente, particolarmente intensificati durante il weekend. Guadagniamo in termini di salute e risparmiamo i soldi dal portafoglio. Sicuramente questa è l'indicazione che stiamo dando ormai da settimane.